Lo scalo di Porta Romana rappresenta per noi sicuramente il futuro dei nostri investimenti a Milano come abbiamo condiviso Testè siamo già da tempo coinvolti con l'importante sviluppo di Simbiosis che sta avanzando a ritmi accelerati, siamo molto contenti, questo dà un po' anche la temperatura di come il mercato si sta muovendo a Milano, tuttavia per noi che abbiamo un'ottica long term è anche importante guardare al futuro e sicuramente lo scalo è un pezzo del futuro di Covivio in Italia un pezzo molto interessante in cui andremo a realizzare un quartiere di nuova generazione che deve diventare un riferimento non solo per Milano ma spero per l'Italia e l'Europa noi ci concentreremo in modo diligente sulla parte uffici che prospetta su Piazzale Lodi e che avrà come obiettivo principale di produrre e materializzare degli uffici che siano allineati all'evoluzione della domanda di uffici che è sotto gli occhi di tutti quindi questa è la nostra sfida, la prendiamo direi in modo totale, la abbracciamo con l'obiettivo di costruire il nostro sfuturo nella città. La tempistica è un elemento fondamentale di ogni sviluppo insieme al budget sono le due colonne portanti di ogni progetto di sviluppo per quanto riguarda lo scalo di Porta Romana sicuramente c'è un obiettivo chiaro noi dobbiamo deliberare alla Fondazione Milano Cortina il villaggio olimpico entro luglio 2025 tutto il resto è costruito intorno a questa deadline che non possiamo assolutamente mancare quindi per spaccare le macrotempistiche noi ovviamente ora abbiamo provato il masterplan siamo in fase di avvio dell'iter urbanistico che richiederà fino alla fine del 2022, inizio 2023 parallelamente partiremo con i lavori delle bonifiche per poi non appena otteniamo i permessi nel 2023 partire con la costruzione e la realizzazione del resto del progetto che poi traguarderà 2025 e 2026 ovviamente l'obiettivo nostro di tutti i partner non solo di Covivio non è di deliberare unicamente il villaggio olimpico all'interno dell'otto ma quello di avere uno sviluppo organico dell'otto stesso quindi sviluppare quella che è l'infrastruttura quelle che sono le sue parti essenziali in modo tale da avere diciamo tra 2025 e 2026 un quartiere che sia operativo, attivo grazie a tutti